Ci piacerebbe tantissimo scrivere una soundtrack proprio apposta per un videogioco. Ora si parla sempre di un videogioco ma si parla di un film, ci piacerebbe per esempio regalare una canzone al film che deve uscire di Assassin's Creed. Ah ok, ho visto che sei abbastanza. Videogioco famosissimo. Magari non proprio regalarla. Da regalarla, vabbè. Rock TV in onda su Sky, canale 718. E in free streaming su tutti i device su live stream.com slash rock tv slash live.